Jason Naturalmente, la situazione era peggiore di quanto pensasse. Altrimenti non sarebbe stato divertente. Sbirciando fra gli olivi in cima all'altura, Jason vide quella che aveva tutta l'aria di essere una festa scatenata di zombie rincitrulliti. Le rovine di per sé non erano molto impressionanti. Pochi muri di pietra, una corte centrale in vasa d'erbacce, alcuni gradini scolpiti nella roccia che non portavano da nessuna parte. Delle tavole di compensato coprivano una buca, mentre un'impalcatura di metallo sosteneva un arco incrinato. Ma sovrapposto alle rovine, c'era un altro strato di realtà, un miraggio spettrale del palazzo così come doveva apparire all'epoca del suo massimo splendore. Portici colonnati si ergevano di fronte all'atrio centrale, che ospitava una grande fontana e bracciari di bronzo. Attorno a una decina di tavoli imbanditi, dei ghoul ridevano e mangiavano, e si prendevano a spintoni. Jason si era aspettato di vederne un centinaio, e invece ce n'erano almeno il doppio, tutti intenti a correre dietro le ancelle, a rompere piatti e coppe, e a rendersi insopportabili in un modo o nell'altro. Per la maggior parte somigliavano ai lari del Campo Giove, spettri purpurei e trasparenti, con la tunica e i sandali ai piedi. Alcuni avevano ancora qualche traccia di un corpo in disfacimento, con la carne grigia, ciocchi di radi capelli untuosi sulla testa e brutte ferite sulla pelle. Altri sembravano comuni mortali, vivi e vegeti. Qualcuno con la toga, qualcun altro in giacca e cravatta o con la mimetica militare. Jason intravide pure un tizio con una maglietta viola del Campo Giove e l'armatura dal legionario romano. Al centro dell'atrio, un gul dalla pelle grigia, vestito con una tunica greca stracciata, si aggirava tronfio tra la folla, reggendo sopra la testa un busto di marmo come se fosse un trofeo sportivo. Gli altri fantasmi esultavano e gli elargivano pacche sulle spalle. Quando il gul fu più vicino, Jason notò che aveva una freccia piantata in gola, il fusto piumato che spuntava dal pomo d'adamo. Ma la cosa più inquietante era un'altra. Il busto che portava non era forse di... Zeus. Difficile esserne certi. Le statue degli dei greci tendevano ad assomigliarsi tutte. Ma il volto aggrottato e barbuto gli ricordava molto la gigantesca versione hippie di Zeus che troneggiava nella Casa Uno, al Campo Mezzosangue. «La nostra prossima offerta!» gridò il gul, la voce che usciva in un ronzio rocco per via della freccia in gola. «Nutriamo la madre Terra!» Nella baldoria generale, gli altri spiriti urlarono e picchiarono le coppe sul tavolo. Il gul si diresse verso la fontana centrale. La folla gli fece largo e Jason si rese conto che la fontana non era piena d'acqua. Il piedistallo, alto all'incirca un metro, spruzzava verso il cielo un getto di sabbia, formando poi un fitto ombrello di granelli candidi che si riversavano nella vasca circolare. Il gul scagliò il busto di marmo nella fontana. Non appena la testa di Zeus attraversò la pioggia di sabbia, il marmo si disintegrò come legno in un trucciolatore. La sabbia scintillò d'oro, che era il colore del licore, il sangue degli dèi. L'intera montagna fu scossa da un boato soffocato, come se eruttasse dopo il pasto. I morti gaudenti, esultarono. «Altre statue?» gridò il gul alla folla. «No! Vorrà dire che ci toccherà aspettare un vero dio da sacrificare!» I suoi compagni risero e applaudirono, mentre il gul si lasciava cadere su una sedia al tavolo imbandito più vicino. Jason serrò il bastone. «Quello ha appena disintegrato mio padre! Chi si crede di essere?» «Immagino sia Antino!» rispose Annabeth, uno dei capi dei proci. Se ricordo bene fu Odisseo a piantargli quella freccia in gola. Piper trassalì. «Però a quanto pare non è bastato. Ma gli altri? Perché ce ne sono così tanti?» «Non lo so», ammise Annabeth. «Nuove reclute di Gea, immagino. Alcuni devono essere ressuscitati prima che chiudessimo le porte della morte. Altri sono solo spiriti.» «Alcuni sono ghoul», aggiunse Jason. «Quelli con le ferite aperte e la pelle grigia, come Antino. Mi sono già battuto contro la loro specie, in passato.» Piper giocherellò con la sua penna d'arpia. «Si possono uccidere?» Jason ripensò a una missione compiuta per il Campogiove anni prima, a San Bernardino. «Non è facile. Sono forti, veloci e intelligenti. E poi si nutrono di carne umana.» «Fantastico», borbottò Annabeth. «Non vedo altre opzioni se non quella di attenerci al piano. Ci dividiamo, ci infiltriamo e scopriamo perché sono qui. Se le cose si mettono male...» «Passiamo al piano B», finì Piper. Jason detestava il piano B. Prima di lasciare la nave, Leo aveva consegnato a ciascuno di loro un razzo di emergenza grande quanto una candelina di compleanno. In teoria, se ne lanciavano uno in cielo, sarebbe schizzato verso l'alto con una scia di fosforo bianco, avvisando Largo 2 che la squadra era nei guai. A quel punto, Jason e le ragazze avrebbero avuto pochi secondi per trovare riparo prima che le catapulte della nave facessero fuoco sulla loro posizione, sommergendo il palazzo di fuoco greco e granate di bronzo celeste. Non era il piano più sicuro del mondo, ma almeno Jason aveva la soddisfazione di sapere che avrebbe potuto scatenare un'incursione aerea contro quella folla urlante se il rischio si faceva grosso. Certo, ammesso che lui e le altre riuscissero a scappare. E ammesso che le micidiali candeline di Leo non si innescassero per sbaglio, a volte capitava con le invenzioni di Leo, nel qual caso il clima si sarebbe fatto ancora più rovente, con un buon 90% di probabilità di apocalisse infuocata. «Siate prudenti laggiù», raccomandò alle ragazze. Piper cominciò a scendere sulla sinistra del crinale, Anna betando a destra. Jason si tirò su con il bastone e zoppicò verso le rovine. Per un attimo, tornò con la memoria all'ultima volta in cui si era tuffato in una folla di spiriti malvagi, nella casa di Ade. Se non fosse stato per Frank Jung e Nico di Angelo, Santinumi, Nico. Nel corso degli ultimi giorni, ogni volta che Jason sacrificava una porzione del suo cibo a Giove, pregava il padre di aiutare Nico. Quel ragazzino ne aveva passate così tante, eppure si era offerto volontario per il compito più difficile, portare la statua dell'Atena Partenos al campo mezzo sangue. Se avesse fallito, i semi dei greci e romani si sarebbero massacrati a vicenda. E in tal caso, qualunque cosa fosse accaduta lì in Grecia, Largo II non avrebbe avuto più nessuna casa a cui fare ritorno. Jason attraversò l'ingresso spettrale del palazzo. Si accorse appena in tempo che una sezione del pavimento a mosaico era un'illusione che aleggiava sopra una fossa di tre metri. La aggirò e proseguì, entrando nella corte. I due livelli di realtà gli ricordavano la fortezza dei titani sul Monte Otri, un frastornante labirinto di pareti di marmo nero che a sprazzi si liquefaceva nelle tenebre per poi solidificarsi di nuovo. Almeno durante quella battaglia aveva avuto un centinaio di legionari al suo fianco. Ora aveva soltanto il corpo di un vecchio, un bastone da passeggio e due amiche in abiti succinti. A una decina di metri di distanza, Piper si muoveva tra la folla, sorridendo e versando vino nelle coppe degli spettri festaioli. Se aveva paura, non lo dava a vedere. Per il momento nessuno le prestava particolare attenzione. La magia di Hazel stava funzionando. Più avanti, sulla destra, Annabeth raccoglieva piatti e calici vuoti. Non sorrideva. Jason ripensò alla chiacchierata che aveva fatto con Percy prima di lasciare la nave. Percy era rimasto a bordo in vista di eventuali minacce via mare, ma non era contento che Annabeth partisse per una spedizione senza di lui. Soprattutto perché sarebbe stata la prima volta che si separavano dopo il loro ritorno dal tartaro. Aveva preso Jason da parte. «Ehi, senti, Annabeth mi ammazzerebbe se insinuassi che ha bisogno della protezione di qualcuno». Jason aveva riso. «Sì, lo farebbe. Ma tienila d'occhio, ok?» Jason lo aveva rassicurato con una stretta sulla spalla. «Farò in modo che torni da te sana e salva!» Adesso si chiedeva se fosse davvero in grado di mantenere la promessa. Raggiunse i margini della folla. Una voce roca esclamò. «Hiros!» Antino, il ghoul con la freccia in gola, stava fissando proprio lui. «Sei davvero tu, vecchio straccione?» La magia di Hazel entrò in azione. Un soffio d'aria gelida si increspò sul volto di Jason, mentre la foschia alterava sottilmente il suo aspetto, mostrando ai proci ciò che si aspettavano di vedere. «Sono proprio io!» rispose Jason. «Hiros!» Una decina di altri spettri si voltò a guardarlo. Alcuni aggrottarono la fronte e strinsero l'elsa delle spade purpure e luccicanti. Troppo tardi Jason si chiese se Hiros fosse un loro nemico, ma ormai c'era poco da fare. Aveva assunto quella parte. Si fece avanti zoppicando, con la sua migliore smorfia da vecchio scorbutico. «Mi sa che sono in ritardo per la festa! Avete messo da parte qualche avanzo?» Uno dei fantasmi fece un verso di scherno, disgustato. «Razza di accattone ingrato! Lo devo uccidere, Antino?» Jason tesi i muscoli del collo. Antino lo scrutò per tre lunghi secondi, poi ridacchiò. «Sono di buon umore oggi! Vieni, Hiros, siediti al mio tavolo!» Jason non aveva molta scelta. Si accomodò di fronte al ghoul, mentre altri fantasmi gli si affollavano intorno, scrutandolo malevoli, come se si aspettassero una gara a braccio di ferro particolarmente brutale. Visti da vicino, gli occhi di Antino erano gialli e intensi. Le labbra tese e sottilissime coprivano a malapena i brutti denti da lupo. Sulle prime, Jason pensò che i capelli ricci e scuri del ghoul si stessero disintegrando. Poi si rese conto che dal cranio dello spettro colava un rivolo costante di terriccio, che gli si riversava sulle spalle. Solle di fango riempivano gli squarci di spada sulla pelle grigia. Altra terra fuoriusciva dalla base della ferita, che la freccia gli aveva aperto in gola. «Il potere di Gea!» pensò Jason. «Era la terra a tenere insieme quel tizio!» Antino gli accostò un calice d'oro e un piatto di cibo facendoli scorrere sulla tavola. «Non mi aspettavo di vederti qui, Miros, ma immagino che perfino un mendicante possa reclamare una ricompensa. Bevi, mangia!» Un denso liquido rosso sciagguattava nel calice. Sul piatto c'era un grosso grumo fumante di carne misteriosa. Lo stomaco di Jason si ribellò. Anche se il cibo del ghoul non l'avesse ucciso, la sua ragazza vegetariana non lo avrebbe più baciato per un mese intero. Ripensò a quello che Noto, il vento del sud, gli aveva detto. «Un vento che soffia senza meta non serve a nessuno!» Jason aveva costruito tutta la sua carriera al campo Giove attraverso scelte oculate. Mediava fra i semidei, ascoltava tutte le parti coinvolte in ogni contesa, trovava compromessi. Perfino quando andava contro le tradizioni romane, pensava prima di agire. Non era un impulsivo. Noto lo aveva messo in guardia. Esitare poteva decretare la sua morte. Jason doveva smettere di riflettere troppo e prendersi quello che voleva. Se era un accattone ingrato, doveva comportarsi come tale. Strappò un pezzo di carne con le dita e se lo ficcò in bocca. Traccannò un sorso del liquido rosso, che grazie al cielo sapeva di vino annacquato, non di sangue né di veleno. Combatté l'istinto di vomitare, ma non stramazzò a terra e nemmeno esplose. «Buono!» Si asciugò la bocca. «Ma dimmi un po', com'è che hai detto? Una ricompensa? Dove devo firmare?» I fantasmi risero. Uno gli mollò una pacca su una spalla, e Jason ebbe paura che potesse sentire che era vera. Al campo giove Ilari non avevano consistenza fisica, ma a quanto pareva quegli spiriti sì, e questo significava solo una cosa. Si era appena conquistato altri nemici che potevano picchiarlo, passarlo a fil di spada o decapitarlo. Antino si sporsi in avanti. «Dimmi, Iros, che cosa hai da offrire? Non abbiamo più bisogno dei tuoi servigi di messaggero, come i vecchi tempi. E di sicuro non sei un guerriero. Se ricordo bene, Odisseo ti ha fracassato la mascella e ti ha gettato in un porcile.» I neuroni di Jason si illuminarono. Iros! Il vecchio che portava i messaggi dei proci in cambio degli avanzi! Era stato una specie di barbone domestico per loro. Quando Odisseo era tornato a Itaca travestito da mendicanti, Iros lo aveva accusato di invadere il suo territorio. E i due si erano messi a litigare. «Tu hai obbligato, Iros!» Jason esitò. «Tu mi hai obbligato a combattere contro Odisseo! E ci hai scommesso sopra! E quando Odisseo si è tolto la veste e hai visto quanto era muscoloso, mi hai costretto a combattere lo stesso! Non ti importava del mio destino!» Antino scoprì i denti a guzzi. «Certo! E neanche adesso me ne importa un fico secco! Però sei qui! Perciò deve esserci un motivo se Gea ti ha concesso di tornare nel mondo mortale! Dimmi, perché ti meriteresti di condividere il nostro bottino di guerra?» «Quale bottino di guerra?» Antino allargò le mani. «Il mondo intero, amico mio! La prima volta che ci siamo incontrati qui, noi volevamo soltanto la terra, i soldi e la moglie di Odisseo!» «Soprattutto la moglie!» Uno spettro calvo e vestito di stracci diede una gomitatina a Jason nelle costole. «Quella Penelope era un vero schianto!» Jason lanciò una rapida occhiata al tavolo vicino, dove Piper stava servendo da bere. Con molta discrezione, lei si avvicinò un dito alla bocca come per provocarsi il vomito, e poi tornò a flirtare con i morti. Antino fece un verso di scherno. «Eurimaco, razza di frignone codardo, non hai mai avuto una possibilità che fosse una con Penelope! Ricordo bene quanto hai piagnucolato e supplicato Odisseo di risparmiarti la vita, dando tutta la colpa a me! Già, e mi è servito a molto come vedi!» Eurimaco sollevò la veste stracciata, rivelando un grosso foro spettrale in pieno petto. «Odisseo mi ha colpito al cuore solo perché volevo sposare sua moglie!» «Comunque...» Antino si rivolse a Jason. «Ora ci siamo riuniti per ottenere un premio ben più grande. Quando Gea avrà distrutto gli dèi, noi ci spartiremo ciò che rimane del mondo mortale!» «Io mi prenoto per Londra!» urlò un ghul dal tavolo accanto. «Mon reale mia!» strillò un altro. «Io mi prendo Duluth!» gridò un terzo, fermando per un attimo la conversazione, mentre gli altri fantasmi lo guardavano perplessi. La carne e il vino si fecero di piombo nello stomaco di Jason. «E il resto... degli ospiti? Sarete almeno duecento! Metà non li conosco nemmeno!» Gli occhi gialli di Antino scintillarono. «Tutti ambiscono al favore di Gea! Tutti hanno subito torti dagli dèi, o dai loro insulsi eroi, e vogliono rifarsi!» «Quel mascalzone laggiù è Ippia, antico tiranno di Atene! Quando fu deposto, combatté al fianco dei persiani contro il suo stesso popolo! Non ha un briciolo di moralità! Farebbe qualsiasi cosa per il potere!» «Grazie!» gridò Ippia. «Quella canaglia con il cosciotto di tacchino in bocca», continuò Antino, «è a sdrubale cartaginese! Ha un brutto conto in sospeso, con Roma!» «Mmm!» mugugnò il cartaginese. «E Michael Varus?» Jason per poco non si strozzò. «Chi?» «Dalla fontana di sabbia, il ragazzo con i capelli scuri, la maglietta viola e l'armatura da legionario si voltò a guardarli. I contorni della sua figura erano fumosi e indistinti, perciò Jason intuì che era uno spirito. Ma il tatuaggio sul braccio era chiaro a sufficienza. SPQR, la testa bifronte del dio Giano, e sei lunghi segni a rappresentare altrettanti anni di servizio. Sul pettorale dell'armatura erano appuntati il distintivo del pretore e l'emblema della Quinta Coorte. Jason non aveva mai conosciuto Michael Varus. Il famigerato pretore era morto negli anni Ottanta. Eppure si sentì accapponare la pelle sotto il suo sguardo. Quegli occhi infossati sembravano perforare il suo travestimento. Antino lo liquidò con un gesto vago della mano. «Ah, è un semidio romano! Ha perso l'aquila della sua legione in... cosa era? L'Alaska? Non ha importanza. Gea gli concede di restare in circolazione. E lui sostiene di avere delle buone dritte per sconfiggere il Campo Giove. Ma tu, Iros, non hai ancora risposto alla mia domanda. Perché dovremmo accoglierti fra noi?» Gli occhi cadaverici di Varus avevano innervosito Jason. Si accorse che la foschia cominciava a farsi più sottile intorno a lui, reagendo alla sua insicurezza. «A un tratto, Annabeth comparve alle spalle di Antino. Altro vino, mio signore! Ups!» Versò il contenuto della brocca d'argento sulla nuca del ghoul. «Ah!» Lo spettro inarcò la schiena. «Stupida sguattera! Chi ti ha fatto uscire dal tartaro?» «Un titano, mio signore!» Annabeth chinò il capo mortificata. «Posso portarti degli asciugamani! La tua freccia è fradicia!» «Parisci!» Annabeth incrociò lo sguardo dell'amico, un muto messaggio di sostegno, e scomparve tra la folla. Il ghoul si asciugò, dando a Jason la possibilità di riordinare i pensieri. Lui era Iros. Un tempo era il messaggero dei proci. Per quale motivo poteva trovarsi lì? Perché avrebbero dovuto accettarlo?» raccolse il primo coltello da bistecca portata di mano e lo conficcò nel tavolo, facendo trassalire gli spettri intorno. «Perché dovreste accogliermi fra voi?» ringhiò. «Perché sono ancora un messaggero, stupidi fantasmi! Sono appena arrivato dalla casa di Ade per controllare che cosa combinate!» L'ultima parte era vera, e sembrò far riflettere Antino. Il gullo fissò malevolo, il vino che ancora colava dal fusto della freccia piantata in gola. «Non ti aspetterai che io creda che Gea abbia mandato te, un mendicante, a controllarci!» Jason rise. «Sono stato fra gli ultimi a lasciare le piro prima che le porte della morte si chiudessero! Ho visto la sala in cui Clizio faceva la guardia sotto una cupola rivestita di lapidi! Ho attraversato i pavimenti d'avorio e pietre preziose del Necromantion!» Anche questo era vero. Attorno al tavolo, gli spiriti si agitarono borbottando. «Allora, Antino!» Jason puntò un dito contro il ghoul. «Forse tu dovresti spiegarmi perché siete degni del favore di Gea. Io non vedo altro che un branco di fannulloni che si danno ai bagordi, invece di contribuire allo sforzo bellico. Cosa dovrò riferire alla madre Terra?» Con la coda dell'occhio vide Piper che gli lanciava un sorriso di approvazione, prima di tornare a dedicare le sue attenzioni allo spettro greco che cercava di convincerla a sedersi sulle sue ginocchia. Antino impugnò il coltello che Jason aveva conficcato nel tavolo. Lo staccò dal legno e studiò la lama. «Se sei venuto per conto di Gea, dovresti sapere che siamo qui per eseguire degli ordini. È stato Porfirio a stabilirlo!» Si passò la lama del coltello sul palmo della mano. «Conosci Porfirio, no?» Jason dovette sforzarsi per non dare di stomaco. Ricordava benissimo Porfirio dai tempi della battaglia alla casa del lupo. «Il re dei giganti! Pelle, dodici metri di statura, occhi bianchi, capelli intrecciati di armi. Certo che lo conosco. E' molto più impressionante di te!» Decise di non specificare che durante il loro ultimo incontro gli aveva scagliato un fulmine in testa. Per una volta Antino sembrava senza parole, ma Eurimaco, il suo compare calvo, mise un braccio attorno alle spalle di Jason. «Su, su, amico!» Puzzava di vino in acidito e cavi elettrici in cortocircuito. Il contatto spettrale trasmise un formicolio alla gabbia toracica di Jason. «Non volevo mica mettere in dubbio le tue credenziali. È solo che, beh, se hai parlato con Porfirio ad Atene sai perché siamo qui. Te lo assicuro, stiamo facendo esattamente come ci ha ordinato!» Jason cercò di mascherare la sorpresa. «Porfirio ad Atene!» Gea aveva promesso di estirpare gli dèi alla radice. Chirone, il mentore di Jason al campo mezzosangue, aveva desunto che i giganti avrebbero cercato di farla risorgere sul monte Olimpo originario. «Ma adesso...» «L'Acropoli!» disse Jason. «I templi più antichi degli dèi nel cuore di Atene! Ecco dove si sveglierà Gea!» «Ma certo!» Eurimaco rise. La ferita sul suo petto emise una specie di sonoro pop, come lo sfiatatoio di un delfino. «E per arrivarci, quegli impiccioni di semi dèi dovranno viaggiare per mare, eh? Sanno che è troppo pericoloso sorvolare la terra!» «E questo significa che dovranno passare di qui!» commentò Jason. Eurimaco annui energicamente. Gli sfilò il braccio dalle spalle e intinse un dito nella sua coppa di vino. «A quel punto dovranno fare una scelta, no?» Tracciò il profilo di una costa sul tavolo, il vino rosso che brillava di una luce innaturale sul legno. Disegnò la Grecia come un informe clessidra, un ampio grumo pendente a rappresentare la parte settentrionale, e poi sotto un altro grumo quasi della stessa grandezza, il grosso moncone di terra noto come Peloponneso. Fra le due parti, una stretta lingua di mare, il canale di Corinto. Jason non aveva bisogno di un'immagine. Lui e il resto dell'equipaggio avevano trascorso l'ultimo giorno di navigazione a studiare le mappe. «La via più diretta», continuò Eurimaco, «sarebbe a est attraverso il canale di Corinto, ma se cercano di passare di lì, basta!» sbottò Antino. «Tu parli troppo, Eurimaco!» Lo spirito sembrò offeso. «Non avevo mica intenzione di dirgli tutto! Solo dell'esercito di ciclopi ammassato sulle due coste, e degli spiriti della tempesta che infuriano nell'aria, e di quei malefici mostri marini che Cetto ha mandato a infestare le acque! E ovviamente, se la nave raggiungesse Delfi...» «Idiota!» Antino allungò un braccio sul tavolo e lo afferrò per il polso. Una sottile crosta di terra cominciò a diffondersi dalla mano del ghoul su per il braccio spettrale di Eurimaco. «No!» strillò il fantasma. «Per favore, volevo solo...» urlò, mentre la terra lo ricopriva come un guscio, per poi incrinarsi e rompersi, sgretolandosi in un mucchio di polvere. Eurimaco era sparito. Antino tornò a sedersi e si pulì le mani. Gli altri proci al tavolo lo guardavano in un silenzio guardingo. «Ti porgo le mie scuse, Iros!» Il ghoul sorrise freddamente. «Ti basti sapere questo! Le vie che portano ad Atene sono tutte sorvegliate, come promesso. I semidei dovranno arrischiarsi per il canale, un'impresa impossibile, o circumnavigare il Peloponneso, una rotta non meno insidiosa. In ogni caso è improbabile che arrivino a porsi questo problema. Moriranno prima. Non appena raggiungeranno Itaca, noi lo sapremo. Li fermeremo qui e Gea potrà constatare il nostro valore. Porta questo messaggio ad Atene!» Il cuore di Jason picchiava forte contro l'Osterno. Non aveva mai visto niente di simile al guscio di terra che Antino aveva evocato per distruggere Eurimaco. E non aveva nessuna voglia di scoprire se quel potere funzionasse anche con i Semitei. E poi il ghoul sembrava sicuro di poter intercettare Largo 2. La magia di Hazel era riuscita a oscurare la nave fino a quel momento, ma chissà quanto sarebbe durata. Jason aveva ottenuto l'informazione per cui erano venuti. La loro meta era Atene. La rotta più sicura, almeno quella non impossibile, era attorno alla costa meridionale. Era il 20 luglio. Avevano solo 12 giorni prima del risveglio di Gea, pianificato per il primo agosto, l'antica festa della speranza. Ora, dovevano solo andarsene di lì finché era possibile. Ma c'era qualcos'altro che lo turbava, un gelido presentimento. Come se non avesse ancora ricevuto la notizia peggiore. Eurimaco aveva menzionato Delphi. Jason segretamente aveva sperato di visitare l'oracolo di Delphi per capire meglio il proprio futuro. Ma se il posto era infestato di mostri... Scansò il piatto con la carne ormai fredda. Sembra che sia tutto sotto controllo. Per il tuo bene, Antino, spero che sia così. Questi semidei sono pieni di risorse. Hanno chiuso le porte della morte. Non vorremmo che vi sfuggissero, o che addirittura arrivassero fino a Delphi. Antino ridacchiò. Se per questo non ci sono rischi. Delphi non è più sotto il controllo di Apollo. Che... capisco. E se i semidei scelgono la rotta attorno al Peloponneso? Ti preoccupi troppo. Quella rotta non è mai sicura per i semidei, ed è troppo lontana. E poi, a Olimpia, vittoria è fuori da ogni controllo. Finché le cose stanno così, è impossibile che i semidei vincano questa guerra. Jason non capiva cosa significasse, ma a noi lo stesso. Molto bene, riferirò tutto a Re Porfirio. Grazie del... ehm... pranzo. Dalla fontana di sabbia, Michael Varus gridò... Aspetta! Jason ricacciò indietro un'imprecazione. Si era sforzato di ignorare il pretore morto. Ma adesso Varus gli stava andando incontro, circondato da una fumosa aura bianca, gli occhi infossati simili agli scarichi di un lavandino. Al suo fianco era appeso un Gladius d'oro imperiale. Devi restare, disse. Antino lo squadrò con irritazione. Che problema c'è, legionario? Se Iros vuole andarsene, lascialo fare. Puzza! Gli altri spettri risero nervosamente. Dal lato opposto della corte, Piper lanciò a Jason uno sguardo preoccupato. Poco lontano, Annabeth impugnò come se niente fosse un coltellaccio preso da un vassoio. Varus poggiò la mano sul pomo della spada. Nonostante il caldo, il pettorale della sua armatura era ricoperto di ghiaccio. Ho perso la mia corte per due volte in Alaska, una da vivo e una da morto. Per colpa di un nome Percy Jackson. Però sono venuto qui, a rispondere alla chiamata di Gea. Sai perché? Jason deglutì. Sei cocciuto? Questo è un luogo del desiderio, rispose Varus. Tutti noi siamo stati attirati qui, sostenuti non solo dal potere di Gea, ma anche dalle nostre brame più ardenti. La cupidigia di Eurimaco. La crudeltà di Antino. Tu mi lusinghi, commentò il ghoul. Il rancore di Asdrubale, continuò il pretore romano. L'amarezza di Ippia. La mia ambizione. E tu, Iros? Cosa ti ha portato qui? Qual è il desiderio più grande di un accattone? Una casa, forse? Jason cominciò a percepire un formicolio inquieto sulla nuca. La stessa sensazione che provava quando stava per scoppiare una terribile tempesta. Dovrei andare, disse. Ho alcuni messaggi da recapitare. Michael Varus sguainò la spada. Mio padre è Giano, il dio bifronte. Sono abituato a vedere attraverso le maschere gli inganni. Tu lo sai, Iros? Perché siamo così sicuri che i semi dèi non transiteranno da questa isola inosservati? Jason passò silenziosamente in rassegna il suo repertorio di parolacci in latino. Cercò di calcolare quanto ci avrebbe impiegato a tirare fuori e innescare il razzo di emergenza. Magari poteva guadagnare abbastanza tempo da permettere alle ragazze di trovare un riparo prima che quella folla di morti lo facesse a pezzi. Si rivolse a Dantino. Di un po', comandi tu qui, sì o no? Forse dovresti tappare la bocca a questo romano. Il ghoul trasse un respiro profondo. La freccia gli vibrò nella gola. Ah, ma potrebbe essere divertente. Avanti, Varus! Il pretore morto sollevò la spada. I nostri desideri ci svelano per quello che siamo. Qualcuno è venuto a cercarti, Jason Grace. Alle spalle di Varus la folla si divise. Il fantasma scintillante di una donna avanzò fluttuando. E per Jason fu come se le sue ossa si riducessero in polvere. Mi ho adorato, disse lo spirito di sua madre. Sei tornato a casa.